ciao a tutti e bentornati su coltivazione a presa diretta siamo nel nostro settore di pomodoro ciliegino siamo a tre settimane dal trapianto sono piantine innestate erano cimate a seconda foglia sono cresciute tantissimo come vediamo dalle immagini molto il colore bello sicuramente nonostante il caldo ecco c'è un ci sono delle temperature che in serra arrivano intorno ai 35 gradi nelle ore di luce e di notte siamo con i 20 gradi quindi nonostante questo caldo e i tassi di umidità alti quindi caldo umido che dà fastidio al pomodoro come abbiamo detto in un video recente il caldo in sé di questo periodo non sta disturbando molto la in generale la crescita delle piante ma il problema sono i tassi di umidità che si vengono a creare soprattutto in serra però come dicevo nonostante questo vediamo che sta le prime fioriture sono abbastanza buone ecco non voglio dire che sono ottime comunque sono buone accettabili anche abbastanza copiose e la crescita della parte vegetativa si vede che è molto importante vedete le femminelle guardate questa è una femminella guardate sono già molto lunghe mezzo metro ad esempio forse anche di più ce ne sono di più grandi però nonostante questo vedete il fusto della pianta metto il mio dito vicino guardate il fusto della pianta è sempre vigoroso ecco quindi sta crescendo tanto si sta preparando per diventare un piccolo boschetto ma noi la fermeremo ovviamente non possiamo lasciarla così allo stato brato ora lo andremo a vedere subito dato vi volevo fare notare che lì in fondo c'è un filare con zucchino e altra roba ma ne parleremo in altri video praticamente sto facendo un piccolo orto frammentato in tutte le serre ma lo vedremo lo seguiremo anche quello potrebbe essere un esperimento interessante poi diciamo anche qui che abbiamo scelto anche quest'anno di fare il filare doppio quindi doppia manichetta con pacciamatura come vedete la facciamatura e la distanza tra i filari e due metri come la scorsa campagna però quest'anno le piantine sono a 30 centimetri l'una dall'altra sulla fila vedete lì c'è una pianta lì un'altra pianta va bene quindi è una se vogliamo una grossa differenza rispetto alla scorsa campagna perché le piante sono più vicine ora andiamo a vedere dove abbiamo messo mano ecco dove abbiamo iniziato ad ammaestrare le nostre piante qui vi mostro il nostro piccolo carrellino multifunzione ecco qua cambia la storia intanto colpo d'occhio spero si vederà bene dalle immagini la colorazione della pianta è diversa qui perché perché giustamente un po sotto stress che è stata sfemminellata defogliata da poco le prime 24 ore soprattutto ma insomma anche i primi due giorni in base alla situazione climatica la pianta potrebbe subire un pochino un pochino un bel po lo stress di queste appunto manipolazioni però vediamo anche un'altra cosa colpo d'occhio che qui si capisce qualcosa vediamo le possiamo seguire una pianta ad esempio qui c'è una fioritura un'altra fioritura va bene la pianta lì sotto il fusto così si vede meglio che sono addirittura queste a tre di relazione vedete perché dovrebbero essere a due ma qualcuna la lasciamo pure a tre e vedete che sono robuste cioè non soffrono il fatto di essere a tre branche quindi noi diciamo spalle dovrebbe dovremmo lasciarlo a due spalle ma quando vedi che c'è una pianta così salutare e così piena di energia insomma anche se invece che a due la lasciamo a tre le porto uguali ecco insomma ha detto così papale papale qui si vede la sofferenza un po una leggera sofferenza dal colore e qualche piccola macchia nelle foglie ecco la pianta ci comunica che dice un po vedi che sto soffrendo però non sempre un male ecco le sofferenze leggere che procuriamo alle piante spesso e volentieri sono momenti di crescita se vogliamo va bene quindi potrebbe allegare meglio ad esempio i frutti e c'è da dire anche che la colorazione non è così scura perché sono state trattate col cavolino anche in sera noi utilizziamo il cavolino ovviamente ne ho parlato in diversi video e quindi seguite il canale iscrivetevi se non vi siete già iscritti così mi aiuterete a fare a continuare con questa divulgazione agricola bene ora vi faccio vedere un'altra cosa il secondo settore di pomodoro quello qui il secondo settore di pomodoro questo qui è pomodoro marmande in fondo vedete c'è un filare stolto di peperone ok il mio orto frammentato bene anche queste sono piantine innestate però non cimate il sesto di impianto è uguale quindi due metri per 30 centimetri anche qui vediamo c'è della sofferenza nella piantina il colore anche qui potrebbe essere strano perché è stato trattato con il cavolino magari si vede bene qualche foglio vedete questa foglia ok la sofferenza da dove la vediamo da questo se vogliamo leggero ricciamento il calore si fa sentire e soprattutto lo vediamo dalle qualche fioritura che si sta perdendo vedete lì sotto c'è qualche fioritura danneggiata e il pomodoro marmande costoluto è più sensibile ecco a questa questione del caldo umido e lo manifesta in primis così con la perdita delle fioriture però direi che siamo a due settimane dalla messa a dimora dal trapianto direi che stiamo andando abbastanza bene non ci possiamo lamentare con questo caldo in serra gli impollinatori lavorano poco come diciamo noi lavorano insomma non fanno al meglio il loro dovere appunto anche loro sentono caldo e magari vanno nelle fioriture un paio d'ore al giorno in totale nelle ore di punta non si vede nessuno qui è inconsiderato ora è tardo pomeriggio e non ce n'è nemmeno uno prima del tramonto se ne vede qualcuno quindi la situazione è un po così un po critica sotto questo punto di vista però direi che stiamo allevando molto bene le piantine ovviamente vengono concimate quindi in fertilizzazione una volta a settimana e vengono trattate anche con i trattamenti fogliari acquosi anche in questo caso una volta a settimana e continuerò a utilizzare il caolino penso per altre due settimane almeno però con un dosaggio basso ecco c'è un video in cui parlo dell'utilizzo del caolino quindi andatelo a recuperare magari ve lo lascio guardate date sempre un'occhiata ai link in descrizione perché appunto sono molto utili comunque in generale la serra si presenta bene e certo sono dolori per questa questione del clima un'altra cosa che vi voglio fare notare è che le piante sono anche più robuste rispetto al ciliegino che abbiamo visto prima e considerate che questo porta innesto nella fattispecie il tomofors mantiene una pianta equilibrata quindi direi che è un risultato buono stanno andando molto bene e addirittura guardate una foglia lì attaccata dalla tuta assoluta comunque si vede insomma che la coltivazione è pulita molto pulita vitale stiamo andando veramente bene ho parlato anche in altri video dei vari trattamenti sia radicali e fogliari che facciamo però in questi giorni ne farò qualcuno più un po più tecnico e specifico perché quest'anno questa nuova campagna come in tutte le campagne abbiamo diciamo apportato delle modifiche al nostro metodo però comunque sia insomma una pianta così con questo colore con questa forza a due settimane dal trapianto non può essere che è sana e al massimo delle possibilità va bene c'è un terzo settore di pomodoro già trapiantato però ancora sono delle piantine piccole quindi non c'è molto da vedere ma ne parleremo più avanti quindi continuate a seguire il canale come sempre ci vediamo nel prossimo video nel frattempo fate i bravi picciotti